Chi è? Chi è che lo batte? Mi ha fatto una sola cosa Chi lo batte? Cosa? Ed è l'arco Poi cominciamo a Bosco Ficchia Ficchia Ancora non ha capito E' la capirana tutta Ed è l'arco C'è il bar Guarda che domani Mille volte E' stato bravo Il tiro era da 5-6 metri Ma meglio Con le mani così è il rigore Il prossimo anno si fanno delle belle Cambia ogni cosa Fanno l'impasto Il mio Andrea ha detto Ma mi hai filmato Ma che ha fatto il riso ieri? Per un attimo il telefono Ma a mezzo sul caccio del telefono Guarda Guarda Ieri mi hanno detto Sul telefono Che si fa? Un po' di venti 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 Guarda Ora te lo dico Te lo dico Stava partendo Sì 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 Oh Sì No 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 No